Per una volta voglio fare i complimenti a questa squadra che per me deve e dovrà essere sempre la squadra titolare perché con questo centrocampo, con McKennie, Arthur è stato migliore rispetto al solito per quanto riguarda anche la fase di non possesso però ho sbagliato qualcosina, insomma uno tra Arthur e Bentancur davanti a difesa e Ramsey comunque Ramsey al di là che ha sbagliato molto tecnicamente e tatticamente è stato molto importante per questa squadra e la squadra deve essere questa, per me, la squadra deve essere questa, poi adesso arriviamo anche singoli mi è piaciuto l'atteggiamento anche se a tratti abbiamo subito, abbiamo rischiato un po' abbiamo tirato il culo indietro come succede spesso in Europa, bisogna anche dire che bisogna essere onesti anche intellettualmente il primo rigore per me non c'era e che il Barcellona è il Barcellona dei, non dico ragazzini, comunque un Barcellona un po' rimaneggiato poi per carità c'è una squadra come l'Inter che ha perso 2-1 in una partita nella quale avrebbe dovuto vincere per qualificarsi contro Barcellona e ha perso 2-1 contro i ragazzini che ci hanno preso per il culo, noi quantomeno abbiamo vinto 3-0 Barcellona adesso io non so da quanto una squadra non si imponesse con questo risultato in Champions League a Barcellona comunque sicuramente sotto questo aspetto molto importante, molto bravo Pirlo sia con la formazione iniziale sia con i cambi anche se qualche cambio alla fine per me non è stato molto positivo, poi ripeto questo giudizio come ho detto dopo il derby è un giudizio che do per la partita e non in generale perché in generale sapete come la penso su tutti i giocatori nostri che per me non abbiamo una rosa per vincere il Champions League, anche perché ripeto come ho detto dopo il 2-0 preso contro Barcellona era il Barcellona ed è il Barcellona peggiore degli ultimi 10 anni chiusa parentesi, detto questo la differenza con le altre partite precedenti è stato l'atteggiamento ed è stata la tecnica e sono stati anche gli interpreti perché come Kenny Ram si è attaccato molto meglio anche la profondità, la rigore avversaria, hai due lato, due tato diciamo molto meglio McKennie tecnicamente è anche molto molto più forte di Matuidi bisogna dirlo, McKennie è imprescindibile secondo me anche lui per questa squadra qui, quindi mi è piaciuto molto Ronaldo anche sotto l'aspetto dello spirito di sacrificio, si vedeva che sentiva molto questa rivalità con Messi, bisogna dire che come ho detto l'andata diciamo che hanno fatto il giusto sfottò per noi con Messi che di qua di là bisogna dire anche che a ritorno l'hanno preso nel culo, ok? Quello è il Barcellona, bisogna dire anche questo, comunque al di là di questo la partita è stata buona ci hanno annullato anche il 4-0, quindi primi, primi, primi quello che volevo e posso dire finalmente che sono contento perché è quello che volevo l'atteggiamento, infatti al di là di Buffon che comunque ha fatto una buona partita quindi su Buffon diciamo mi scuso se ho criticato prima però io sono così, mi espongo prima e poi se sbaglio chiedo scusa e chiedo Venia su The Elite sono contento che abbia giocato perché avesse giocato Danilo centrale per me avremmo rischiato nonostante questo Barcellona qui, a dire questo Barcellona a livello difensivo aveva molti deficit giocatori che comunque anche come Lengletta e Umititi non sono questi fenomeni però al di là di questo, al di là di questo, mi è piaciuto proprio l'atteggiamento, l'approccio alla partita l'intensità, molte volte anche del pressing in fase non possesso e anche la qualità perché di fatto ragazzi oggi al centrocampo abbiamo messo qualità e come ho detto al di là della doppietta di Ronaldo, al di là della doppietta di Ronaldo Ram si ha sfiorato un gol e McKennie ha fatto un altro gol, due partite in fila ci mancano i gol dei centrocampisti e con i gol anche di quel reparto se non soprattutto di quel reparto al di là dell'attacco tu puoi vincere delle partite che possono essere anche bloccate al di là del Barcellona, al di là del Derby quindi tanto di guadagnato si iniziano a segnare questi centrocampisti qui come McKennie e Ramsey perché sono gli unici due giocatori che possono fare bene e farci gol e poi Rabiot è un giocatore che va messo quando, quando dico sempre, ha partite in corso perché è un giocatore che soprattutto se stai vincendo ti strappa ed è quello che ha fatto, ha fatto un po' così così però è in quel modo che Rabiot deve essere sfruttato non dall'inizio perché se tu vuoi dettare il tuo gioco McKennie molto bravo anche di prima o McKennie come lo volete chiamare, molto bravo anche di prima Quadrado alterna delle giocate fantastiche a giocate che sarebbe lì da... comunque anche oggi Quadrado bene anche oggi Quadrado bene i due peggiori in campo i due peggiori in campo mettiamoci anche Di Bala quindi tre perché Di Bala purtroppo entra con un approccio sbagliatissimo sbagliatissimo, sbagliatissimo ok? quindi mettiamoci anche Di Bala leviamolo i due peggiori in campo sono Alexandro e Morata sapete benissimo cosa penso io di Morata ma oggi Morata tatticamente ha fatto i soliti movimenti belli, utili per la squadra ma tecnicamente ha sbagliato troppo ha sbagliato veramente troppo quindi oggi Morata, mi spiace dirlo ma insomma io sono obiettivo sotto questo aspetto e Morata è uno dei peggiori in campo perché ha sbagliato veramente molto tecnicamente molto, molto quindi sotto questo aspetto nulla da dire nulla da dire diciamo che oggi Ronaldo ha fatto il Morata delle ultime partite e Morata ha fatto il Ronaldo delle ultime partite cioè sbagliava tanto stava a volte tanto su però lo vedevo un po' secondo me non lo so l'ho visto un po' fuori partita oggi Morata ci sta una partita ci sta per carità hai vinto comunque quindi non è quello il problema sta di fatto che comunque ha giocato male bisogna dirlo no? poi sta di fatto che i movimenti che mi lasciano comunque fiducioso di Morata li ha fatti perché non è che è stato fermo con le mani sul fianchi cioè Morata ha fatto i movimenti soliti ha aiutato comunque ha tentato di aiutare la squadra praticamente siccome è perfetto tecnicamente ha sbagliato tutto e sapete benissimo quando mi dicevano eh ma che dire si inserisce ma tu di si inserisce tecnicamente sono intelligenti dicevo sì ma se tecnicamente mi sbagliano meritano 4 quindi l'ho detto con Morata l'ho detto con Ramsey l'ho detto con altri ok oggi Ramsey molto meglio rispetto al derby sicuramente non è non ha fatto una grandissima partita però sicuramente una buona partita l'ha fatta quindi sotto questo aspetto Messi battuto è strabattuto a Ronaldo bisogna dirlo sono contento devo essere sincero sono contento per l'atteggiamento per la mentalità che chiedevo in Europa al di là del Barcellona e ripeto questa vittoria non deve illudere adesso dicendo noi siamo ci candidiamo per la vittoria della Champions League no allora se al gennaio mi arriva un centrocampista e un terzino o sinistro o destro quello che volete uno almeno un centrocampista vi posso dare ragione vi posso dare ragione però se rimane questa squadra qui è una squadra normalissima secondo me non è una grande squadra questa non è una grande squadra cioè mettete la via al di là che abbiamo vinto 3-0 oggi a Barcellona contentissimo ripeto ma bisogna stare con i piedi per terra perché non è una grande squadra abbiamo frattato un Barcellona il Barcellona peggiore negli ultimi dieci anni e lo sottolineo perché perché sono così cioè tendo a stare così calmo perché poi quando arrivano le squadre più forti e prendi le bastonate ti chiedi ma come mai se abbiamo battuto il 3-0 Barcellona vi dico già ma ve lo dico perché perché ho fatto anch'io questo errore dopo Juventus-Barcellona 3-0 non vi ricordate che poi in finale ne abbiamo prese 4 anche quello è il Barcellona che era già in declino capite perché poi le ha prese anche dal PSG prima le ha prese dalla Roma l'anno dopo capite è questo discorso che bisogna fare dal Liverpool cioè il Barcellona comunque fuori casa ecco la differenza è che gli abbiamo battuti anche in casa loro anche se comunque non c'era il pubblico bisogna anche fare questa piccola precisazione però assolutamente come prestazione come vittoria tanto di cappello non è che abbiamo creato chissà quanto però abbiamo fatto la nostra partita con un atteggiamento giusto anche tecnicamente molto bene siamo usciti e abbiamo avuto coraggio oggi di riuscire anche pallal piede sbagliando rischiando ma abbiamo avuto coraggio e questa è una cosa che mi fa ben sperare sta di fatto che quella cosa che mi farebbe ben sperare o sperare di più sarebbe il mercato questo può come si può ma non ci torno su oggi ripeto analizziamo la partita sapete benissimo cosa penso la società quindi non ci torno su analizzo la partita e le scelte di Pirlo questo è il centrocampo che deve giocare sempre 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 si possono alternare Arthur e Bentancur ma le due mezzeali come Ramsey e McKennie devono giocare sempre sempre punto sempre soprattutto contro squadre che si chiudo anche di più perché poi l'Abbio contro quelle squadre va molto di più in difficoltà quindi assolutamente questo è un centrocampo da riproporre sempre fine poi nel secondo tempo avrei cambiato avrei messo Chiesa un po' prima di bala lasciamo stare e niente questo è questo è non so se c'è qualcos'altro a dire ecco Bonucci molto bene oggi Bonucci molto bene leggermente peggio dell'Ite perché ha avuto 5 minuti di sbavature aveva fatto bene fino a quel momento poi ha avuto quei 5 minuti un po' così Danilo mostruoso oggi Danilo mostruoso oggi Danilo Bonucci Quadrado e McKennie sono siccome i 4 migliori in campo oggi ok e ripeto è un giudizio che riguarda la partita 5 poi i miei pensieri generali li sapete punto ok e io quando ho pensieri negativi sensazioni negative su un giocatore sulla mia squadra spero sempre di sbagliare io oggi avevo pronosticato 2-1 per il Barcellona e sono contentissimo di aver sbagliato contentissimo contentissimo e se guardate la live reaction che magari potrei caricare poi chiederò il permesso a Simone alcune ispezioni dei gol sul mio canale ok che l'ho fatta appunto da Trick Boys vedrete che i gol è il gol io ho risultato tutti i gol ok tutti i gol punto ok detto questo vi auguro buona serata a tutti buona notte a tutti sempre comunque fino alla fine forza di evento se finalmente una sera anche se abbiamo vinto perché di solito anche quando vinciamo sono un po' così perché non vedo qualcosa anche questa sera che abbiamo vinto ma abbiamo vinto bene abbiamo vinto bene abbiamo anche saputo abbiamo saputo soffrire oggi sono contento poi domani un altro giorno e ripeto per quanto riguarda il futuro anche prossimo in Europa non dico assolutamente non dite nemmeno voi che questa squadra è una squadra che può vincere da sempre così perché bisogna anche valutare l'avversario in che periodo è ok bene giusto precisare è giusto precisare fino alla fine forza di eventos primi il nostro l'abbiamo fatto adesso vedremo i sorteggi lunedì a mezzogiorno se non sbaglio cosa e che avversario ci daranno però il nostro l'abbiamo fatto punto buonanotte a tutti fino alla fine forza di eventos l'abbiamo a tutti